Nel 1989 il concorso di Miss Italia celebra il suo cinquantenario, che vede trionfare la Veneta Eleonora ben fatto. È nata a Campo San Piero in provincia di Padova il 20 maggio 1973. Conquistato il titolo di più bella d'Italia, trova presto lavoro come modella e riesce a fare una splendida carriera sfilando per gli stilisti più prestigiosi, come Yves Saint Laurent, Givensy, Chanel, Lancetti, Laura Biagiotti, Roberto Cavalli e Gianfranco Ferré. Eleonora ha lavorato anche in diversi programmi televisivi. Ha partecipato alle trasmissioni Il gioco dei nove con Gerry Scotti e Il gioco delle coppie, condotto da Corrado Tedeschi. Verso la fine degli anni 90 Eleonora ben fatto conduce su Rai 1 Sanremo Classico e i più bei gol della nostra vita. Ha sfilato al fianco di Alain Delon nella trasmissione Miss Italia 2000 nella serata dedicata alla moda. Insieme a Carlo Conti ha presentato le edizioni di Miss Italia nel mondo, dal 2000 al 2002. Nel 2001 arriva per lei anche un'esperienza cinematografica, con il film di Carlo Vanzina, South Kensington. Successivamente su Rete 4 condurrà Fornelli d'Italia in estate, con Davide Mengacci, e la vedremo ancora in Donnaventura VIP e Vivere Meglio, sempre su Rete 4. Ha fatto anche l'inviata speciale nel programma Il viaggiatore, presentato da Matteo Mazzocchi. Negli ultimi anni si sta occupando di politica. È sposata e ha due figli.